E Tommaso cosa combina? Taglia il zucchine con il petococchello Cos'è? Una mannaia? No Attento Tommaso quando fai così che ti tagli le dita Guardate con quale abilità Eccolo lì Olè E avevo sempre fermato ma non ho mai spento Guarda Guarda Bata la mela La vedi tu favore? Benissimo La super non è molto Bella Fa bella È sufficiente questa o è troppo piccola Come sono? Buone Buone Ok Adesso Senza scottarsi Spacchiamo l'uovo Abbassa tutta la fiamma Bravo Buon 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 sopra sopra Le bucce Dopo le tiro fuori aprilo aprilo veloce Perfetto Le bucce Aspetta aspetta ciccio perché qua devo tirar fuori le bucce Tutti la d'olio Senti che Alza la fiamma Che porno che buon fumo Hai sentito Hai sentito? Bene Adesso mettiamo il prosciutto Prendo le mani solo la paletta Lo metti tu? Tutto io Bene Scorpagliato Mettiamo la sottiletta Lo metto io Sì Un pezzettino alla volta Sì Buonanotte Mettiamo un po' di prosciutto Ecco Mi voglio un po' Da mangiare Ah da mangiare? Sì un po' cotti caro Molto costoso Però devo salgare Eh? E se non E se deve buttare via Eh è vero Se la mangiamo E se deve la buttare via Quello facciamo? Eh? Ci tocca mangiare La buttare via Ma che pizzico Basta Basta sale Ci c'è un burst Ho visto che porco Bravo Adesso Si scioglie Cosa? Non voglio cuocerla io Cosa? Lasciarla cotta qua Come cotta qua? La voglio Vintamola subito La chiudo Guarda che molezze Eh? Spaziale 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 Pezzettino Spaziale Tommaso cucina L'omelette Per la mamma Però Cos'è che non devo fare Tommaso allora? Non devi farla A pezzettini A pezzettini Ho detto anche Rappoli Cioè Non devi farla A pezzettini Che Non devo farla In sostanza Male Però sopra dopo vai Eh? Non come prima Dal buttimè Di fuori Macca Macca Dai Macca Vai sopra Ole Au Ma è scuttato Buttalo lì Bu Adesso Alza la fiamma Mescola così Veloce Sì Spacca Spacca Dai 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 Veloce Due colpi Tre Bon Basta Ok Abbasso un po' la fiamma No Lasciala così Lasciala così Ma tu ascolti Capocuoco O Butta Guarda O fai quello che vuoi tu Ma tu sei un cuoco assaggiatore Allora Un cuoco mangione E' buona Eh Quello Dai E cosa facciamo E' buona E' buona E' buona Per mettere dentro Ma tu dici bisogna assaggiare gli ingredienti prima di metterli Per quello Adesso ho capito Guarda mamma Guarda Tac 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 Oh mi dimenticatrice C'è già la Anna E' un po' No Le devo buttare via Guarda come facciamo noi Guarda Sì Paletta Paletta Piano 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 Pianino Pianino Senza romperla Piano Si gira attorno Si stacca tutta qua Così Guarda Come facciamo noi due Non bisogna fare la Pezzettina Bisogna Chiuderla Pianino però Pianino Ok Pianino Senza romperla tutti Arapoli Così Così Mamma Così Ho visto Ho ripreso tutto A tavola Mamma A tavola Sì Bene Bene